Da quando è stato eletto sindaco di Messina, Cateno di Luca ha avviato una vera e propria rivoluzione per migliorare ogni aspetto della città dello stretto, dai trasporti ai rifiuti dalle scuole agli eventi per far ottenere alla città la centralità persa da decenni. Un altro clamoroso provvedimento del sindaco è lo sgombero entro il prossimo 31 ottobre delle costruzioni fatiscenti negli ambiti di risanamento, cancellare insomma in pochi mesi le baracche, uno dei simboli del degrado della città di Messina. Un obiettivo già annunciato più volte in passato, ma in pochi avevano immaginato tempi così stretti per risolvere una situazione di degrado che la città si trascina da decenni. La presenza di costruzioni fatiscenti è spesso realizzate con materiali pericolosi e un'emergenza di carattere sociale ma anche igienico-sanitario. Inoltre le immagini dei fabbricati realizzati con mezzi di fortuna non regalano uno spettacolo positivo ad una città che vuole puntare anche sul turismo. E così il sindaco di Messina, Cateno di Luca, che è la massima autorità cittadina, ha subito preso in mano la situazione. Risolverò il problema del risanamento, ha detto il primo cittadino, demolendo tutte le baracche rimaste in piedi. Il sindaco ha chiesto di avere entro il 31 agosto la documentazione dettagliata da parte di tutti gli uffici competenti. In particolare ha sollecitato l'ASP a fornire una relazione e le relative attestazioni riguardanti l'anti-igienicità e il grave degrado delle strutture abitative. E' obbligato l'Istituto Autonomo Case Popolari a trasmettere al Comune, sempre entro il 31 agosto, una dettagliata relazione su tutte le procedure ancora in corso relativa alla legge 10 del 1990 e nonché sulla disponibilità di alloggi liberi da destinare ai nuclei familiari aventi diritto. Il primo cittadino ha interpellato ognuno per i propri compiti anche l'ARPA, cioè l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'AMAM, la società che si occupa della gestione del servizio idrico, i dipartimenti della protezione civile, delle politiche del territorio e dell'edilizia privata. Insomma, per molti uffici il mese di agosto sarà di intenso lavoro. Quello adottato dal sindaco di Messina sulle baracche è il più clamoroso dei provvedimenti mai presi da un sindaco nella storia recente di Messina. Oltre allo sgombro, entro il 31 ottobre 2018 di tutte le persone e le cose da tutte le strutture abitative che insistono negli ambiti di risanamento e la contestuale recinzione messa in sicurezza e vigilanza dei siti, il sindaco De Luca ha ordinato anche la demolizione delle baracche entro il 31 dicembre prossimo. De Luca ha chiesto al segretario generale di predisporre la proposta di delibera con la quale richiedere al presidente della regione siciliana di avviare l'iter procedimentale di investire il governo nazionale della gravissima situazione igienico-sanitaria che persiste nel territorio del comune di Messina al fine di ottenere la dichiarazione di stato di emergenza socioambientale per fronteggiare una situazione endemica di degrado ed evitare ulteriori pericoli o danni ancora maggiori a persone e cose.